Le teorie logiche analitiche a confronto vedremo le caratteristiche principali e le principali differenze tra le due teorie poi vedremo i canoni ermeneutici secondo l'ermeneutica giuridica poi vedremo i argomenti interpretativi di prima e seconda classe secondo una visione logico-analitica dell'interpretazione poi vedremo le finzioni giurisprudenziali e per ultimo quale debolezze delle teorie logiche analitiche e per ultimo vedremo gli istituti applicativi della metodologia giuridica ermeneutica la discrezionalità amministrativa, l'equità e i principi fondamentali del diritto paragrafo 1 l'ermeneutica giuridica quale scienza metodologica canonista allora, se le teorie logiche analitiche ritengono che il momento centrale dell'interpretazione sia da rinvenire nel soggetto interpretante e l'oggetto dell'interpretazione si pressa ad essere mero soggetto passivo inerte del procedimento interpretativo secondo la visione ermeneutica secondo la visione dell'ermeneutica giuridica l'oggetto non è un oggetto meramente inerte e mero momento passivo dell'interpretazione ma l'oggetto è qualcosa che ci parla entra a far parte del procedimento interpretativo secondo la visione proprio della circolarità ermeneutica infatti ciò per i giuristi ha un significato più forte ha un significato più evidente dato che il giurista lavora con delle disposizioni la cui applicazione non coincide con il testo originario cioè il giurista si deve confrontare con una serie di interpretazioni che nel tempo si sono succedute interpretare il diritto non è nient'altro se non una costante attività di reinterpretazione ecco la circolarità ermeneutica da questo primo punto di vista il rapporto che sussisse tra la spiritualità dell'oggetto il rapporto che sussisse tra la spiritualità del soggetto e le diverse spiritualità che si sono succedute relative all'oggetto in interpretazione la circolarità ermeneutica il circolo ermeneutico è quel complesso risultato interpretativo a cui la comunità giuridica è pervenuta mediante successive rielaborazioni relative a un determinato oggetto dell'interpretazione quindi l'ermeneutica giuridica ha da insegnare all'ermeneutica filosofica da questo punto di vista ma anche dal punto di vista della precomprensione critica la precomprensione critica non è nient'altro se non come abbiamo visto in altra sede non è nient'altro se non un habitus un'attitudine all'interpretazione un'attitudine alla comprensione che poi come vedremo si pone quale criterio di legittimità alla decisione cioè l'uomo contemporaneo non ammette più che l'interprete non porti se stesso cioè non può non ammettere che l'interprete non porti se stesso all'interno dell'interpretazione la sua vita, il suo mondo giuridico e non giuridico la sua psicologia quindi in questo contesto l'ermeneutica giuridica presuppone un'eterointegrazione ordinamentale cioè l'interprete partecipa al procedimento di creazione del diritto attraverso l'interpretazione e i scopi dell'ermeneutica giuridica è quella di validare di riporre dei criteri di validazione del processo interpretativo a prescindere da una premessa normativa quindi una premessa maggiore a prescindere dalla possibilità di svolgere un silogismo giuridico logico giuridico si pensi al giudizio di equità come validare il processo interpretativo dell'interprete le teorie logico-analitiche invece presuppongono, diciamo, aderiscono alla teoria dell'auto-integrazione ordinamentale strettamente connessa al principio di completezza ordinamentale che presuppone l'intemporalità della legge e la sua delimitazione ordinamentale la completezza dell'ordinamento nient'altro è se non la capacità dell'ordinamento di rinvenire le risorse in se stesso diciamo che il discorso sulla completezza dell'ordinamento ha interessato la dottrina di inizio 6 dell'inizio del ventesimo secolo e si è parlato della teoria generale inclusiva esclusiva o dello spazio giuridico vuoto la prima quella inclusiva è volto a escludere dal nostro ordinamento tutto ciò che non è disciplinato dalla legge ad esempio i contratti atipici devono essere ritenuti illeciti perché non previste alla legge secondo la teoria generale esclusiva devono essere inclusi all'interno dell'ordinamento anche i principi generali derivanti dalle norme costituzionali che non sono state racchiuse all'interno di una fattispecie secondo la teoria dello spazio giuridico vuoto tutto ciò che non è regolabile anche in extrema razio attraverso analogia è giuridicamente dal punto di vista giuridico irrilevante questo da un punto di vista del logico delle teorie logiche analitiche dell'interpretazione e che presuppongono una intemporalità della legge impongono l'intemporalità della legge cioè la legge vive fuori dal tempo ed è circoscritta ordinamentalmente ma il diritto invece si connota per essere diacronico e diatopico diacronico vive nel corso del tempo si adegua si muta a seconda del rinnova del mutamento delle esigenze sociali della percezione sociale dei fenomeni della coscienza sociale l'attività giuridica è diacronica rispetto all'atto giuridico si pensi al contratto di compravendita di un'automobile il fenomeno della giuridicità non si esaurisce all'interno del contratto ma c'è una complessa attività giuridica che è diacronica rispetto al contratto stesso così come diacronico l'eterointegrazione ordinamentale che si lascia cioè che si lascia integrare nel corso del tempo il diritto è diatopico cioè si presta a uno svolgimento nello spazio ma non è uno spazio limitato territorialmente diciamo ordinamentalmente ma si pensa ai contratti si pensa all'ex mercatorum si pensa ai contratti a cui è soggettabile il si applica il diritto europeo non è una questione di diritto comparato cioè individuare la legge di uno stato piuttosto che di un altro il problema è quello di individuare dei criteri interpretativi che appunto sappiano validare il giudizio il problema della dogmatica giuridica è un problema che attiene al linguaggio e il linguaggio giuridico è un linguaggio meta è un meta linguaggio cioè la dogmatica è un linguaggio specifico che parte da premesse individuali per raggiungere un argomentum che è valido perché è necessario preservare una logica giuridica assiomatica cioè che parte da un assioma e si concluda e si concluda con un assioma che è vero in quanto che è vero in quanto valido vero in quanto valido vero in quanto valido e infatti il problema è un problema di validità e non un problema di realtà di corrispondenza al vero è valido in quanto la premessa è valida e non vera questa è una dogmatica giuridica che quindi si correla abbiamo detto è volta a preservare una logica giuridica assiomatica abbiamo anche una versione pandettistica una versione storica della dogmatica e della logica assiomatica secondo cui si deve partire da non un assioma normativo ma da un assioma ma la premessa maggiore deve essere posto il principio giuridico strapolato dalle fonti giuridiche ad opera degli interpreti della dottrina ma sia dal punto di vista storico che dal punto di vista giuridico si è o comunque si è comunque tutti d'accordo nel ritenere che la scienza giuridica sia una scienza dogmatica e la dogma che ha prevalso è il dogma scientista leibizniano cioè si parte da premesse normative valide non in quanto corrisponde valide non perché vere detto questo dove si pone la ermeneutica giuridica l'ermeneutica giuridica si pone laddove vuole diciamo ammodernare la dogmatica giuridica vuole si pone l'obiettivo di cioè non ricusa la dogmatica giuridica ma si pone l'obiettivo di adeguarla ai criteri ermeneutici della circolarità ermeneutica e della precomprensione critica le teorie logiche analitiche quindi aderiscono a una logica assiomatica e poi per lo più aderiscono alla teoria dell'imputazione e abbiurano la teoria della casualità la teoria della causalità secondo cui a ogni causa consegue un effetto e quindi al verificarsi del fatto consegue una sanzione viene sovrapposto alla teoria dell'imputazione secondo cui la sanzione non è frutto dell'avvenimento del fatto ma è frutto dell'imputazione del fatto alla norma spieghiamoci facciamo un esempio chiarificatore se il legislatore punisce gli alieni gli alieni che si atterrano su un tetto di un'abitazione è una premessa logica valida e non perché vera infatti gli extra terrestri non esistono ma se dovessero dimostrare la loro esistenza scendendo sulla terra e atterrando su una casa a quel punto si potrebbe procedere al sillogismo logico giuridico e far conseguire la sanzione ma la sanzione non è frutto dell'avvenimento del fatto perché il fatto non esisteva prima della norma la la sanzione è frutto dell'imputazione di questo fatto alla norma di questo fatto successivo alla norma preesistente ritorniamo ai concetti di circolari termineutica e precomprensione critica perché in verità la circolari termineutica non è solo il rapporto tra oggetto e soggetto ma è anche la considerazione dell'attività dell'interpretato ad opera dell'interpretante è la complessa attività giuridica sia quella posta dal soggetto dichiarante che quella posta dal soggetto su cui ricade la dichiarazione promanata e i rispettivi effetti giuridici è la consapevolezza e la considerazione degli effetti dell'interpretazione della ricaduta degli effetti di interpretazione sull'interpretante e sull'interpretato non si può il giudice non può non considerare che dinanzi a sé a una persona ecco perché i canoni oggettivi oggettivi perché alla fine il giudizio ad esempio il giudizio equità si sostanzia in un giudizio non tra in un rapporto non tra oggetto e soggetto ma tra due soggetti tra due persone quindi la circolarità può essere diadica o triadica la triadica è quella contrattuale si parte dal contratto per poi valutare considerare e interpretare la complessa attività giuridica per poi ritornare al contratto per non perdere la premessa maggiore la circolarità diadica è quella propria dei principi fondamentali del diritto cioè prescinde totalmente da un testo scritto la precomprensione critica abbiamo detto che la comprensione critica è l'attitudine del soggetto a interpretare a comprendere e l'abbiamo abbiamo anche detto che è un criterio di legittimità alla decisione ad esempio tutti possono interpretare la costituzione ma non tutti possono decidere sulla base della costituzione solo la corte costituzionale può assumere una decisione e cos'è che fa sì che la decisione non risulti essere un mero arbitrio l'attitudine precomprensiva della corte costituzionale che non è nient'altro se non competenza professionalità e capacità cioè competenza professionalità ed esperienza detto questo la ermeneutica giuridica non si pone quale scienza epistemologica o storica non è alla ricerca di ciò che è vero cioè che nel diritto è coincide coincide con ciò che è giusto non si propone di raggiungere la verità o la giustizia ma si propone di garantire la giustizia del metodo la verità del metodo sembra essere recepito dal nostro legislatore questa concezione all'articolo 111 della costituzione quindi l'ermeneutica giuridica è una scienza metodologica canonista perché prevede quattro canoni due relativi alla circolarità ermeneutica e due relativi alla precomprensione critica il cui rispetto o mancato rispetto può comportare rispettivamente può garantire rispettivamente la validazione o l'invalidazione del giudizio del giudizio interpretativo è ciò a prescindere come abbiamo detto dalla esistenza di una premessa maggiore è ciò a prescindere dalla possibilità di porre in essere un sillogismo logico giuridico si pensi al giudizio di equità oppure si pensi a come poter sindacare la discrezionalità amministrativa si pensi per ultimo a come poter sindacare l'interpretazione che ad oggetto principi fondamentali del diritto e quindi per riprendere il discorso i canoni i canoni anche le teorie logico-analitiche e la dogmatica classica non può fare a meno di quelli che sono i canoni ermeneutici solo che dal punto di vista della teoria logico-analitica dispositivista l'attività interpretativa è un'attività legalmente vincolata in quanto si elevano a principi generali le coordinate di ermeneutica legale di quell'articolo 12 in particolare delle preleggi cioè se le teorie logico-analitiche laddove ritengono che l'attività interpretativa sia mero atto conoscitivo raccordato l'autonomia del diritto fanno dire a Kelsen che la maniera migliore il modo migliore per scongiurare i totalitarismi sia quello di arginare il più possibile l'intervento creativo dell'interprete all'interno del procedimento interpretativo e giudiziario veramente e quindi come abbiamo detto i canoni da un punto di vista logico-analitico consistono in tecniche argomentative di prima classe o di seconda classe quelli di prima classe quelli di prima classe si impongono a tutti gli interpreti in relazione ad ogni oggetto da interpretare mentre invece sarebbe l'interpretazione letterale e quindi elevando a principio generale il criterio ermeneutico legale di quell'articolo 12 delle preleggi e criteri e tecniche argomentative di seconda classe che sono criteri ermeneutici da un punto di vista logico-analitico sussidiari marginali quale l'interpretazione sistematica l'interpretazione storica e l'analogia legis ora mentre invece come abbiamo visto queste teorie dal punto di vista giusrealistico pongono correllano il problema della validità o sovrappongono al problema della validità il problema dell'efficacia ed è chiaro che il problema dell'efficacia apre le porte all'ermeneutica giuridica perché fa sì che l'efficacia entri nel procedimento interpretativo e l'efficacia nient'altro è se non la complessa attività giuridica da interpretare quando nelle nostre sentenze nostre corti si fa riferimento all'ermeneutica giuridica o l'ermeneutica non si fa riferimento al sinonimo colto di origine greca del termine interpretare ma si fa riferimento a questa concezione secondo cui l'oggetto non è mero inerte soggetto passivo passivo cioè non è mero inerte passivo ma partecipa attivamente nel procedimento e nel mondo giuridico assume la qualifica di soggetto proprio e diverso di soggetto proprio e diverso quindi da rispetto a un'interpretazione filologica quindi ancorata al testo rispetto a un'interpretazione critica quindi totalmente svincolata dal testo l'ermeneutica giuridica pone un punto un punto medio dato dalla circolarità ermeneutica e dalla precomprensione critica che nient'altro è se non il riconoscimento della partecipazione soggettiva al procedimento interpretativo dato dal rapporto di circolarità ermeneutica tra oggetto e soggetto tra oggetto e soggetto scusate tra soggetto e oggetto che nel mondo del diritto acquisisce specifica qualifica di soggetto diverso e allora ecco che le teorie logiche per concludere il paragrafo il lungo paragrafo ecco che le teorie logiche analitiche si pongono tra le teorie epistemologiche cioè volta alla ricerca del significato delle parole cioè volta alla ricerca si appuntano sul significato delle parole volto a coglierne quello vero e qui essendo vero è l'unico possibile mentre invece la teoria ermeneutica dell'ermeneutica giuridica si pone tra le teorie eclettiche quindi che ritengono che la interpretazione sia ad un tempo atto di conoscenza ad un tempo atto di volontà e qui sarebbe la distinzione tra atto giuridico e atto politico laddove solo l'atto giuridico conserva queste due caratteristiche di essere ad un tempo atto di conoscenza ed atto di volontà adesso ci occuperemo del paragrafo 2 i canoni ermeneutici interpretativi allora come nascono i canoni interpretativi nascono nel più o meno nel periodo ottocentesco quale prodotto della dogmatica classica al in un filone scientifico scientista volto a chiedersi se fossero applicabili le metodologie delle scienze naturali anche le scienze sociali anche le scienze umane scusate e quindi se in ultimo fossero invenibili nel mondo del diritto dei criteri delle regole obiettivamente valide per tutte e questo l'obiettivo che si pone che si propone l'ermeneutica giuridica quello di far sì che l'atto la decisione seppur discrezionale non sia un atto d'arbitrio non sia un atto di volontà ma sia un atto di ragione e che quindi questi giudizi possano essere sindacati i canoni oggettivi sono una grande novità attualmente diciamo il ritorno ai canoni ermeneutici sono una grande novità in particolare i canoni ermeneutici oggettivi i canoni ermeneutici sono quattro due relativi all'oggetto e due relativi al soggetto e quelli relativi all'oggetto sono la grande novità perché come abbiamo detto la grande novità dell'ermeneutica giuridica è quella di non incentrare di infrangere il mito logico analitico giust positivistico secondo cui l'interpretazione il momento centrale dell'interpretazione è il è ricondotto al soggetto interpretante invece non è così l'oggetto partecipa nel procedimento e diviene uno specifico soggetto il giudice non può fare non può non considerare il fatto che dinanzi a sé ha una persona umana il canone oggettivo è volto a diciamo renderci consapevoli del fatto che non è solo un rapporto tra soggetto ed oggetto ma è un rapporto tra due individui tra due soggetti e quindi i canoni il mancato rispetto dei canoni può invalidare il giudizio interpretativo in sede di ermeneutica correttiva svolta dalle corti di legittimità dalle corti superiori il canone dicevamo i canoni ermeneutici sono in verità un ritorno al pre 1600 dopo cristo e ce ne accorgeremo il primo canone oggettivo è la riprova del fatto che i canoni oggettivi non sono poi una grande novità sono una novità attualmente ma non rispetto al periodo pre 1600 dopo cristo infatti il primo canone oggettivo è il canone dell'autonomia dell'intendere ricondotto al 1362 ricondotto anche al diritto romano secondo cui l'interpretazione non può puntarsi solo sul testo ma deve estendersi alla complessa attività giuridica questo ce lo dice il 1362 testualmente al secondo comma la giurisprudenza però anche di legittimità evidentemente analitica diciamo pretermette del tutto l'applicazione del 1362 secondo comma al contratto e quindi pretermette del tutto questo canone oggettivo applicando al contratto l'articolo 12 delle preleggi in combinato primo comma prima parte in combinato disposto con il 1362 seconda parte beh però chiaramente ad oggi si ritorna attuale il canone dell'autonomia dell'intendere anche in sede ermeneutica il canone dell'autonomia dell'intendere si collega all'attualità dell'intendere è correlato all'attualità dell'intendere che in sede di ermeneutica correttiva significa riconsiderare le interpretazioni che si sono succedute nel tempo e riportarle all'attualità riportarle al presente secondo canone oggettivo il canone della totalità non significa completezza ordinamentale ma significa che l'oggetto e l'interpretazione deve essere considerato il rapporto agli oggetti similari che si vanno ad interpretare un quadro non può essere considerato se non in confronto ad un altro quadro simile nonché significa il canone della totalità che l'oggetto deve essere considerato il rapporto agli altri oggetti del contesto che si va ad interpretare è il rapporto tra testo e contesto richiamando la dottrina italiana ogni testo va letto all'interno degli altri testi che sarebbero che nient'altro sarebbero se non i contesti quindi dal punto di vista oggettivo l'interpretazione è circolare e si apre le porte questi canoni all'interpretazione del diritto e non solo all'interpretazione della legge passiamo ai canoni soggettivi riguardanti la precomprensione critica e dunque quella partecipazione soggettiva dell'interprete all'interno del procedimento interpretativo che presuppone l'eterointegrazione ordinamentale che si vuole in un certo modo regolare guidare orientare mettere dei paletti a questa partecipazione soggettiva il primo canone soggettivo è il canone della attualità dell'intendere che cosa significa mi sono dimenticato di dire che il canone della totalità è recepito il canone oggettivo della totalità è recepito dall'articolo 1363 del codice civile che impone un'interpretazione contestuale di tutte le clausole un'interpretazione complessiva di tutte le clausole del contratto che tenga in considerazione tutte le clausole e il contratto quindi un'interpretazione contestuale del contratto torniamo al presupposto soggettivo al canone scusate soggettivo della attualità dell'intendere ciò significa la considerazione lo studio l'analisi della partecipazione soggettiva dello spirito dell'interpretante all'oggetto interpretato o meglio la considerazione della immediatezza dell'interpretazione e cogliere l'oggetto nell'attualità e lo studio della partecipazione soggettiva cioè della partecipazione soggettiva all'attività dell'interpretato ok questi canoni sono recepiti all'interno degli articoli 1366 a tutela del principio di buona fede 1367 a tutela del principio di conservazione del contratto 1368 a tutela del principio delle tecniche interpretative generali canoni che garantiscono la attitudine precomprensiva e in particolare l'attualità dell'intendere dell'interprete pretermessi del tutto in sede di ermeneutica correttiva della corte suprema di cassazione ma ritornati ad essere attuali nei tempi nei tempi più recenti per ultimo l'ultimo canone che andiamo a vedere è il canone soggettivo della corrispondenza e dell'adeguamento dell'intendere spiega questo può essere esplicato questo canone attraverso la circolarità triadica propria del contratto si parte dal contratto per poi adeguare l'interpretazione a quella che è le complesse attività e quindi ritornare al contratto per non perdere la premessa maggiore recepita nel codice civile all'articolo 1370 del codice interpretazione contro l'autore della clausola molto rilevante in relazione alla ex mercatorum molto rilevante in relazione a quei contratti che hanno come destinatari un grande numero di consumatori molto rilevante divenuto in sede di ermeneutica correttiva ora parliamo del paragrafo 3 le tecniche argomentative di prima e seconda classe e le finzioni giurisprudenziali allora per le teorie logico-analitiche interpretare è una tecnica argomentativa cioè che si sviluppa attraverso degli enunciati e si conclude attraverso un argomentum e come abbiamo visto queste tecniche argomentative possono essere o di prima o di seconda classe di prima classe l'interpretazione letterale sono quelle che si impongono su tutti gli interpreti qualsiasi oggetto debba essere interpretato anche l'interpretazione costituzionale mentre invece è dell'interpretazione letterale di cui all'articolo 12 primo comma del prima parte delle preleggi poi i criteri le tecniche argomentative di seconda classe sono residuali e marginali si applicano solo nel caso in cui il caso non sia ancora risolvibile mediante le tecniche argomentative di prima classe e vediamo queste tecniche l'interpretazione la tecnica argomentativa di prima classe abbiamo detto è l'interpretazione letterale può intendersi in interpretazione letterale in senso stretto o l'argomentum a contrario in funzione interpretativa l'interpretazione letterale in senso stretto si basa sulle tecniche semantiche e cioè no scusate sulle tecniche sintattiche e cioè logico grammaticali e le regole semantiche che cos'è la regola semantica è ciò che è evidente per l'uso diffuso in una determinata parola è ciò che è evidente per la collettività è l'uso diffuso il significato attribuito diffusamente dalla collettività dalla maggior parte delle persone che è nient'altro se non la combinazione tra la significanza comune di una parola e la significanza giuridica della parola ad esempio imprenditore agricolo è dal punto di vista semantico un imprenditore che non può fallire quindi comunanza della significanza comune e della significanza giuridica poi abbiamo detto l'interpretazione letterale si compone dell'interpretazione letterale in senso stretto e dell'argomento ma contrario in funzione interpretativa l'argomento ma contrario in funzione interpretativa risponde a questo concetto ciò che il legislatore volle disse ciò che il legislatore tacque non volle quindi ciò che il legislatore tacque non è ritenuta una lacuna ma è ritenuta avente valore di norma se vogliamo norma inespressa ma dal punto di vista dell'interpretazione letterale l'argomento ma contrario in funzione interpretativa serve a suffragare ad avallare a giustificare a rinforzare il significato a cui si è pervenuti mediante l'interpretazione letterale passiamo alle tecniche argomentative di seconda classe abbiamo detto sussidiarie a quelle di prima classe e il primo è l'argomento ma contrario in funzione produttiva ove il caso non sia quindi a differenza di quella dell'argomento ma contrario in funzione interpretativa che suffraga rinforza il significato letterale l'argomento ma contrario in funzione produttiva viene utilizzato quando il caso non sia risolvibile mediante l'interpretazione letterale e dunque risale e si appunta a questo tipo di interpretazione l'argomento ma contrario in funzione produttiva su quella che è l'intenzione del legislatore e così anche l'interpretazione storica l'interpretazione sistematica l'interpretazione storica in particolare è la verifica degli atti l'analisi degli atti preparatori e il significato storico di una determinata disposizione di una determinata legge si compone dell'interpretazione fattuale l'interpretazione contro fattuale l'argomentum teologico e l'argomentum psicologico in senso stretto tra questi criteri sono prevalenti l'interpretazione contro fattuale e l'argomentum teologico che cos'è l'interpretazione fattuale è quella che prende in considerazione gli atti preparatori di una legge in correlazione al consolidamento applicativo di una certa norma che cos'è l'interpretazione contro fattuale ha lo stesso funzione dell'argomento ma contrario in funzione produttiva cioè si utilizza la contro fattualità per spiegare ciò che il legislatore non ha detto l'analogia l'analogia è una tecnica di seconda classe e costituisce rappresenta il passaggio dal positivismo classico al positivismo logico comporta il passaggio dall'interpretazione estensiva all'analogia l'analogia nel gius positivismo classico non era non poteva esistere per il gius positivismo classico in quanto il gius positivismo classico diciamo presupponeva teorizzava una completezza ordinamentale che invece non sussiste che è proprio mentre invece nell'analogia è proprio la lacuna ordinamentale ad essere nel suo presupposto e l'analogia è un procedimento non logico perché non ha una premessa maggiore non ha una legge non ha una precisa disposizione e quindi non è un qualcosa di logico non ha fondamenti logici ma arriva a risultati logici il gius positivismo logico lo spiega nel senso che non è necessario che la premessa sia normativa ovvero logica è sufficiente che la premessa sia ordinamentale come nel caso dell'analogia legis nel caso dell'analogia iuris abbiamo un procedimento all'interno del procedimento in quanto vi è il primo procedimento di generalizzazione e il secondo procedimento di analogia in senso proprio passiamo alle finzioni giurisprudenziali allora le funzioni giurisprudenziali sono dal punto di vista logico analitico extrema ratio cioè vengono utilizzati solo quando il caso non possa essere risolto mediante tecniche argomentative di prima e seconda classe ma la topica cioè diciamo le finzioni giurisprudenziali sono ben più risalenti rispetto alle teorie giuspositiviste rientrano nella cosiddetta topica i topos giurisprudenziali non sono nient'altro se non la rilevanza e l'intromissione della logica comune all'interno del procedimento di interpretazione giuridica ad opera della giurisprudenza e come la logica comune influisce nell'interpretazione ad opera dei giudici dalle teorie logico-analitiche ricondotte a forme di interpretazione estensiva o a forme di analogia dalle teorie logico-analitiche ritenute più particolarmente giustificative della propria decisione volte a rinnovare una norma per adeguarla alle mutate esigenze sociali ma in verità delle due l'una o queste tecniche non sono o queste tecniche sono discrezionali o queste tecniche si allontanano dal testo di legge le teorie logico-analitiche per nascondere la discrezionalità del magistrato ritengono che non siano i fatti o i rapporti a mutare come ritengono invece le teorie erpeneutiche ma ritiene che siano il significato racchiuso nelle parole a evolvere a mutare beh le finzioni giurisprudenziali disvelano quelle che sono le debolezze delle teorie logico-analitiche e ce ne accorgeremo infatti infatti l'argomento a fortiori l'argomento a maggior ragione per esempio il legislatore ha vietato l'ingresso ai cani a maggior ragione avrà vietato l'ingresso agli orsi beh in verità questa l'argomento a fortiori è una tecnica giustificativa della propria discrezionalità del proprio operare discrezionale il proprio decidere discrezionale la dissociazione viene dissociata una norma rispetto al complesso normativo a cui appartiene in quanto ritenuta possibile farlo da parte dell'interprete sulla base della ratio legis della disposizione e delle disposizioni contigue quindi è l'inverso di ciò che avviene nell'interpretazione sistematica sulla base della ratio legis l'interprete si allontana da una norma e decide di non applicarla il combinato disposto non è assolutamente una forma di analogia come ritengono le teorie logico-analitiche perché in verità ben vedere è l'unione di due norme al fine di crearne una terza quindi si avvicina alla creazione del diritto alla funzione creativa del diritto e non tanto integrativa analogica e poi abbiamo altre finzioni giurisprudenziali la sedes materia la costanza terminologica la reductio ad absurdum la sedes materia permette all'interprete di estendere cioè permette all'interprete di applicare regole e norme proprio di una certa materia a cui appartiene il caso la costanza terminologica permette all'interprete di utilizzare i termini legislatore liberamente laddove a questi termini il legislatore attribuisca una costante significanza cioè una significato costante e per ultimo la riduzione ad absurdum permette all'interprete di diciamo distanziarsi da da un risultato interpretativo che è ritenuto cioè ad allontanarsi da un risultato interpretativo ritenuto dalla maggior parte della comunità giuridica assurda quindi come è chiaro queste le finzioni giurisprudenziali aprono le porte alle teorie eclettiche le teorie scettiche e mettono in crisi le teorie logico-analitiche laddove dimostrano l'esistenza della discrezionalità giurisprudenziale paragrafo 4 ultimo paragrafo istituti applicativi della metodologia ermeneutica la discrezionalità amministrativa l'equità e i principi fondamentali del diritto allora la premessa perché sono istituti applicativi della metodologia giuridica perché attraverso essi possiamo verificare la sussistenza dei canoni ermeneutici e sindacarne la loro validità hanno in comune discrezionalità equità e principi fondamentali del diritto quelli di essere o un'eccezione o una negazione dell'ordinamento positivo positivista ma partiamo con ordine discrezionalità amministrativa nasce alla fine nel 1700 inizio 1800 al fine di arginare il potere eccessivo del sovrano poi acquista veste giuridica cioè viene disciplinato nei limiti e nei presupposti e quali sono i presupposti dal punto di vista ordinamentale per aversi una valida discrezionalità amministrativa legittima presupposto oggettivo è la dichiarazione di pubblico interesse e circostanze eccezionali urgenti dal punto di vista del presupposto soggettivo il naming letter la mancata adesione di interessi parziali concreti di interessi scusate particolari particolari o comunque interessi collettivi a fronte di un interesse parziario bene a ben vedere dal punto di vista del quid ius e quindi fondamento dell'ermeneuticità della discrezionalità amministrativa il presupposto oggettivo coincide con la precomprensione critica il presupposto soggettivo coincide con la circolarità ermeneutica con rispetto di questi due criteri perché solo chi ha una forte attitudine precomprensiva può emanare una dichiarazione di pubblico interesse e di eccezionalità d'urgenza non tutti possono farlo mentre invece è chiaro che il naming letter corrisponde alla circolarità ermeneutica quindi tenere in considerazione la considerazione e il contemperamento di interessi la considerazione della complessa attività e il contemperamento di interessi dal punto di vista del quid iuris possiamo quindi abbiamo elementi per sindacare eventuali ordinanze contingibili e urgenti decreti di espropi per pubblica utilità o anche decreti legge passiamo al giudizio di equità il giudizio di equità è detto ah no un'ultima cosa sulla discrezionalità amministrativa discrezionalità amministrativa è una negazione dell'ordinamento positivo il giustipositivismo lo ritiene non esistente ma il nostro perché non è ricondotto al legislatore ma il nostro ordinamento lo ritiene ben sussistente lo ritiene assoluto lo ritiene sovrano riconducibile a persone diverse dal legislatore ma pur ma seppur purché rispettosi dei presupposti che abbiamo visto passiamo al giudizio di equità il giudizio di equità è un cosiddetto giudizio ascefalo in quanto manca il silogismo maggiore la premessa normativa del silogismo logico-giuridico è anche una negazione dell'ordinamento positivista il giustipositivismo non lo ritiene possibile la sussistenza di un tale dell'equità ma il nostro ordinamento smentisce il giustipositivismo prevedendolo tanto nei giudizi dinanzi al giudice di pace quanto nei giudizi dinanzi al tribunale o alla corte d'appello su richiesta concorde delle parti quanto nel giudizio arbitrale e quindi qual è la concezione conservata nel nostro ordinamento dell'equità la concezione tanto formale quanto sostanziale concezione formale greca secondo cui il giudizio di equità è un giudizio correttivo della legge il giudizio di equità è un giudizio alternativo che è un silogismo cefalo ma pur sempre un silogismo logico per la concezione sostanziale di origine latina dell'equità l'equità consisterebbe nell'esteriorizzazione della sostanza della giudicità l'esteriorizzazione della sostanza della giudicità che nient'altro sarebbe che nient'altro è se non il contemperamento di interessi in gioco e non solo di interessi in astratto la concezione formale greca e quella sostanziale latina tendono a coincidere nel giudizio di equità laddove emerge il contemperamento laddove manca la premessa maggiore ed emerge il contemperamento degli interessi in gioco anche da questo punto di vista dal punto di vista il qui di us il qui di uris dell'equità solo chi ha una forte precomprensione critica può giudicare secondo equità e dato il contemperamento degli interessi in gioco è chiaro il riferimento alla circolarità ermeneutica passiamo ai principi fondamentali del diritto bisogna distinguerli dai principi generali dell'ordinamento giuridico mentre i principi generali sono un'eccezione all'ordinamento positivista e costituiscono una clausola di chiusura dell'ordinamento giuridico i principi fondamentali del diritto costituiscono una negazione dell'ordinamento positivista vengono prima delle norme e vengono costruiti in sede non ordinamentale quindi non limitato spazialmente e temporalmente dal punto dei principi fondamentali del diritto nel common law possono essere utilizzati quale premessa maggiore del silogismo logico giuridico senza tanti problemi infatti nel common law il legislatore non è la produzione del diritto non è ricondotta esclusivamente al legislatore il giudice può assumere quale premessa maggiore del suo silogismo giuridico tanto i principi generali quanto i principi fondamentali quanto una legge quanto le provvedimenti di politica provvedimenti amministrativi dell'amministrazione governativa però il fatto di guardare oltre la legge è penetrato anche nel civil law e dal punto di vista delle teorie logiche analitiche i principi di diritti sono ricondotti comunque all'interpretazione della legge perché rimanendo sulla premessa maggiore si può giungere ad argomenti quindi rimanendo fatta salva la legge quale premessa maggiore secondo le teorie logiche analitiche si potrebbe giungere a discorrere ad argomentare in relazione ai principi generali fondamentali universali del diritto ciò per alla fine al fine di giustificare le sentenze della corte costituzionale le sentenze le corti di giustizia internazionali ma dal punto di vista dell'ermeneutica bisogna ben distinguere i principi generali dell'ordinamento dai principi fondamentali e i principi fondamentali non possono essere una premessa in senso tecnico una premessa maggiore del silogismo logico giuridico quindi qual è il fondamento il qui di ius e il qui di iuris dei principi fondamentali del diritto non tutti non tutti interpretare i principi fondamentali del diritto non tutte le corti solo la corte costituzionale e la corte internazionale di giustizia e le corti supreme di legittimità e poi la circolarità ermeneutica è molto forte e anzi si riconnette all'essenza della circolarità ermeneutica una circolarità ermeneutica diadica perché è chiaro e soprattutto è evidente come gli effetti dell'interpretazione da parte dell'interpretante ricadano non solo sull'interpretato ma sullo stesso interpretato